Ciao da Absim! Tra campionato e Supercoppa, in attesa di Coppa Italia e Champions League, cerchiamo di mettere qualche punto fermo, di segnare qualche certezza sugli sviluppi tattici della Juventus, cioè su come la Juve deve e può giocare per rendere al meglio. Prendendo spunto da Roma-Juventus 3-4, quindi facciamo un passo indietro e ritorniamo a quella partita assurda, folle, nelle dinamiche del risultato, che però ci ha restituito, secondo me, un riscontro chiaro sul centrocampo. Ci lamentiamo da anni del centrocampo della Juventus, dei centrocampisti della Juventus, ma come sostengo quasi da sempre, è un problema di allenatore o di abbinamento allenatore-giocatori. Per esempio Sarri, con quel centrocampo, difficilmente poteva far qualcosa, perché erano giocatori troppo diversi dal suo modo di far giocare la squadra, ma comunque è riuscito a conquistare qualcosa, tra cui lo scudetto da non dimenticare. Un po' meno il discorso con Pirlo, che forse poteva far meglio con i centrocampisti che ha avuto a disposizione e si è intestardito su un modello di gioco non idoneo. Mentre per quanto riguarda Allegri, il centrocampo è stato tendenzialmente rinforzato con l'acquisto di Locatelli. Abbiamo un McKennie che ha un anno in più e quindi si è ambientato e può far meglio. Stessa cosa per quanto riguarda Artur. Bentancur, Allegri lo conosceva già, Rabiot lo adora e si sapeva che l'avrebbe adorato, invece preferirei che non giocasse, ma infatti dobbiamo parlare soprattutto di Artur e di Locatelli. Perché secondo me il punto sta lì, in come metti in campo questi due e se li metti in campo, perché Artur sta giocando pochissimo e invece secondo me è lui la soluzione. Parliamo soprattutto di lui, è lui che può cambiare il centrocampo della Juventus. Nella partita contro la Roma, l'abbiamo visto, è entrato al 64esimo ed è stato determinante per il 3-0 di quei 7 minuti e quindi per il ribaltone, per la rimonta che abbiamo fatto segnare da 3-1 a 3-4. È rientrato praticamente in tutte le azioni, in tutti gli sviluppi di quei tre gol, c'è sempre lui, c'è sempre il suo zampino. E quindi intanto dobbiamo collocare un po' Artur come centrocampista, come giocatore della Juventus, dati alla mano fin qui in questa stagione tra tutte le competizioni. E poi vedere come è cambiato Locatelli, da così a così, tra il minuto 0 e il minuto 64 che ha giocato senza Artur e il minuto 64 fino alla fine che invece ha giocato con Artur. Locatelli che ha segnato in quel secondo tempo, che ha fatto parte, ha iniziato anzi la rimonta, ha fatto il gol del 3-2 su assist di Morata, appunto andando in area di rigore. Ma appunto dopo vi vado a mostrare, dati alla mano, quanto è veramente radicalmente cambiata la partita di Locatelli con e senza, senza e con Artur. E quindi proviamo poi a chiederci se non sia il caso di puntare su Artur titolare fisso in mediana con funzione di regista per liberare Locatelli dai compiti di prima impostazione, che come abbiamo visto contro il Napoli lo portano addirittura ad abbassarsi in mezzo ai centrali difensivi, per andare a fare la mezzala offensiva. La mezzala offensiva. Anche col Torino segnò il gol decisivo proponendosi in avanti. Qualche altro gollo assist che ha fatto in questa stagione sempre sganciandosi. Quando invece gioca in posizione arretrata non imposta neanche granché bene Locatelli. Non è neanche così pulito, preciso, nelle giocate, nelle impostazioni, da poter dire non possiamo rinunciarci. Cioè non è Pirlo che non l'avresti mai mosso di lì perché era perfetto. Non è neanche Pjanic che pure era la mia vecchia battaglia, sgravare Pjanic dei compiti difensivi e liberarlo davanti a fare la mezzala di possesso. Ma comunque in mediana Pjanic giocava molto bene, era molto preciso. Locatelli è ancora meno di tutto questo, quindi non c'è neanche una giustificazione di ordine di convenienza perché gioca troppo bene lì per non spostarlo davanti. Quindi stiamo andando a perdere attualmente delle prestazioni, un rendimento, delle qualità di Locatelli che lui ha in funzione di non si sa cosa. Cioè sull'altare di qualcosa che è anche meno utile. Stiamo perdendo una utilità per ottenere una inutilità, diciamo, o comunque qualcosa di meno utile come Locatelli in mediana. Mettendoci invece Artur le cose cambierebbero. E questo ce lo dicono appunto i dati di Artur, fonte FBREF, che ci descrivono un centrocampista che è impensabile, che non venga ritenuto il più forte in rosa. Perché i numeri dicono questo. Artur è il centrocampista più forte che abbiamo sotto molti punti di vista. Ma soprattutto dal punto di vista dell'impostazione e della precisione, della pulizia. Poi può non piacere il suo stile di condurre tanto palla o di fare spesso passaggi orizzontali. Ma a me sembra molto più convinto e convincente nel ruolo di prima impostazione in mediana rispetto a Locatelli. Mi sembra molto più padrone di se stesso e delle giocate. Ed infatti vediamo che Artur è il secondo giocatore della rosa della Juventus, fonte FBREF, tra tutte le competizioni, fin qui, stagione 21-22, per precisione nei passaggi. 91,1. Al primo posto ci sarebbe Ramsey a 92,2. Però deve essere un dato falso perché mi hanno assicurato che Ramsey sia scarsissimo, antipaticissimo. Insultato anche dopo essere risultato positivo ieri. Insulti su Twitter, insulti su Instagram, sotto il post della Juve che annuncia la positività di Ramsey. Esultanza anzi perché è il risultato positivo. Quindi tifosi che sono felici perché un loro giocatore si è ammalato, tra virgolette, perché poi potrebbe anche star benissimo. Così come se fossero contenti, se si fosse infortunato. Bellissimo, tutto bellissimo, ma va bene così, va bene così. Quindi, ripeto, cosa che ho già detto, i giornalisti, moralisti a targhe alterne fanno bene a non indignarsi, a non fare la morale ai tifosi. Perché è giusto così. Su Ramsey si può dire qualunque cosa, qualunque cosa impunemente. Se si tratta di qualcun altro non si può neanche dire che è spettinato. Va bene. Evidentemente, però, ripeto, questi sono dati falsi. Cioè non è possibile che Ramsey, che fa così schifo e che ci ha rovinato la stagione non giocando, è stato a causa dei nostri mali, possa avere una precisione dei passaggi così elevata nel poco che ha giocato. 92,2. Sono evidentemente dei dati alterati, non può corrispondere al vero. Per quanto riguarda Artur, tornando, è primo invece per distanza totale coperta dai suoi passaggi in media ogni 90 minuti. 1.417 metri. Quindi significa che Artur, in media ogni 90 minuti, quando gioca, gioca tantissimi palloni con la sua rete di passaggi, costruisce tantissimo. E costruisce benissimo perché ha questa elevata precisione. Tra l'altro, tornando alla precisione, è al primo posto per precisione sui passaggi lunghi, e meno male che dicono che Artur non verticalizza. È al primo posto per precisione sui passaggi lunghi, 90,6%. Al secondo posto c'è Ramsey con 89,5%, ma anche qui dati falsi, non è possibile. Ed è al terzo posto, Artur, per precisione sui passaggi di media lunghezza, 96,6%. Davanti a lui ci sono solo per innescesli, voglio dire, che fanno sempre passaggi all'uomo libero. Quindi, di fatto, Artur è primo. Inoltre, è primo tra i centrocampisti per distanza progressiva dei suoi passaggi ogni 90 minuti. Cioè, per maggior distanza coperta dai suoi passaggi in avanti, verso la porta, ogni 90 minuti, 323 metri. Primo tra i centrocampisti, ottavo in totale, perché ovviamente, sulla distanza progressiva, gli attaccanti e gli esterni, ma anche i tersini, fanno molto di più. Infatti, il meglio di Artur c'è, per esempio, Quadrado. Però è il primo tra i centrocampisti per progressività nella costruzione. Ed è un centrocampista difensivo, comunque, che non va in avanti. Eppure costruisce tanto in avanti. E ancora, per quanto riguarda i passaggi completati nel terzo offensivo, ogni 90 minuti è primo nella rosa della Juventus, 9,17. Quindi è il giocatore che mette più palloni in media ogni 90 minuti nel terzo offensivo. E ancora, altri 3-4 dati. Altri 3 dati, per quanto riguarda i filtranti, ogni 90 minuti è quarto, con 0,21. Al primo posto c'è Locatelli, 0,29. Poi Kuluseschi, 0,22. E Bernardeschi, pure lui, a 0,21. Per quanto riguarda, invece, i passaggi effettuati sotto pressione degli avversari, è ovviamente primo, perché è un campione in questo. Ogni 90 minuti ne fa 11, 10,8. Primo in assoluto nella rosa. Primo in assoluto nella rosa anche per conduzione progressiva, cioè non passaggi, ma per maggior spazio coperto, a livello di metri, ogni 90 minuti, conducendo palla in avanti, conducendo palla verso la porta avversaria. 173,8 metri, ripeto, primo giocatore nella rosa. Tutto questo Artur l'ha fatto in 11 presenze, con 0 gol e 0 assist, in soli 426 minuti. Quindi è chiaro che sono dati che possono anche peggiorare, nel senso che facendo giocare Artur per 90 minuti tutte le partite, smetterà di essere primo, di essere secondo, terzo o così preciso. Però la tendenza è chiara, cioè è difficile che Artur all'improvviso diventi il terzo, quarto centrocampista, è il centrocampista più forte che c'è nella Juventus. Potrebbe diventare il secondo su alcune cose, su alcune cose già lo è. Non vi ho portato, per esempio, dati difensivi, mi sono concentrato su quelli di costruzione, perché quello che più ci interessa, chi può migliorare la qualità del centrocampo, la qualità dei passaggi, l'ha detto anche Allegri, dobbiamo migliorare la qualità del gioco, serve Artur. E tra l'altro, queste presenze sono andate così. Quattro volte è stato titolare, di cui però tre volte è stato sostituito e solo una volta ha fatto 90 minuti, e sette volte è subentrato. Questo è il motivo per cui solo 426 minuti, nonostante 11 presenze. Ora, se questo è Artur, in senso quasi assoluto, come ha cambiato la partita di Locatelli contro la Roma? Fonte, who scored, nella porzione di partita, tra il minuto 0 e il minuto 64, quindi senza Artur, Locatelli aveva effettuato 45 tocchi. Questi 45 tocchi sono stati però solo 17 nella metà campo avversaria e ben 28 nella metà campo difensiva. Quindi significa che Locatelli, senza Artur, in questi 64 minuti, ha toccato solo il 38% dei palloni nella metà campo avversaria, la restante parte nella metà campo della Juventus. Inoltre, 36 passaggi in questi 45 tocchi, di cui solo 15 nella metà campo avversaria, pari al 41%, i restanti 21 nella metà campo difensiva. Inoltre, un contrasto effettuato in attacco, 0 tiri, 0 intercetti e 0 key passes. Ma cosa è successo a Locatelli appena entrato in campo Artur? Quindi dal minuto 64 al 90 più recupero 95-96, 18 tocchi, e quindi già se vogliamo fare una proporzione, diciamo che comunque forse ha toccato anche più palloni al minuto, 18 tocchi di cui 13 nella metà campo avversaria, pari al 72%, e di conseguenza gli altri 5 soltanto nella metà campo difensiva. 14 passaggi su 18 tocchi, di cui 10 nella metà campo avversaria, il 4 in quella difensiva, quindi 71%, ripeto, senza Artur Locatelli il 38% dei tocchi nella metà campo avversaria, con Artur il 72%. Senza Artur Locatelli il 41% dei passaggi nella metà campo avversaria, con Artur il 71%. Per passaggi, i tocchi ovviamente è dove tocca il pallone, cioè dove fa possesso. I passaggi è da dove effetto il passaggio, ok? Quindi non è neanche detto che i passaggi nella metà campo avversaria fossero stati tutti in avanti, potevano anche essere stati all'indietro, però come ci dice il posizionamento, ci dice la situazione di manovra, cioè dove si va a collocare Locatelli quando c'è Artur, cioè molto di più in avanti, inoltre, come se non bastasse, va bene 0 contrasti, 0 intercetti e 0 equipassis, ma un tiro che è andato nello specchio ed è stato anche gol. Quindi abbiamo un Locatelli cambiato veramente da così a così, con l'ingresso in campo di Artur, con Artur che costruisce e costruisce così bene, così bene nella nostra metà campo, ma a centro campo in generale, Locatelli lo possiamo sguinzagliare davanti e udite udite va a tirare in porta e segna pure, inserendosi in area di rigore alla perfezione. Certo, complice anche l'atteggiamento disastroso della difesa della Roma, anche sugli sviluppi di Locatelli con Artur possiamo dire che la Juventus si è alzata, sì, la Juventus si è alzata, ma come si è alzata? Come ha fatto ad alzarsi? Perché si è alzata? Proprio perché abbiamo inserito Artur e abbiamo posizionato Locatelli e di conseguenza Locatelli è potuto andare più avanti. Non è un... cioè viene prima la gallina e poi l'uovo in questo caso, cioè non possiamo dire Locatelli ha giocato più avanti perché la Juve si è alzata, la Juve si è alzata perché Locatelli ha giocato più avanti, secondo me è una chiara connessione di cose, e non sarebbe stato possibile senza inserire Artur. Allora, se questi dati hanno un senso, spero di sì, e se vi è stato anche utile questo ragionamento, io propongo, ma lo dico da un sacco di tempo, che Locatelli debba essere considerato una mezzala, mezzala, Locatelli è una mezzala, mezzala offensiva tra l'altro, da stare il più possibile nella metà campo avversaria. Davanti alla difesa, se dobbiamo utilizzare un mediano con funzione di regista, questo deve essere Artur. Punto e basta. Solo Artur. Poi Locatelli qualche volta si può anche adattare, ma sarebbe sprecato, quindi rendiamo il più possibile Artur titolare fisso. Piani ci giocava tutte le partite, perché non possiamo avere Artur che gioca tutte le partite? Può giocare tutte le partite, è forte, guardate che numeri che ha, è precisissimo, costruisce anche in avanti, verticalizza pure, che volete di più. mettiamolo titolare fisso e Locatelli si alterna con le altre mezzali, ma io lo metterei anche in titolare fisso, pure Locatelli. Cioè facciamo un centrocampo a tre, di cui due elementi fissi sono Artur e Locatelli, e l'altro è Meccanio Bentancur. Come dite? Rabiot? E chi è? No, non lo conosco. Dopodiché Ramsey è purtroppo già escluso, ma purtroppo perché invece i numeri direbbero che sarebbe un giocatore, un'ottima mezzala offensiva pure lui, se non addirittura un trequartista, però hanno deciso che dovevano fargli terra bruciata e dovevano portare la tifoseria a odiarlo e ad insultarlo, persino quando risulta positivo, oltre che per tutti quanti, per qualunque altra cosa faccia. Contenti così i giornalisti moralisti, i giornalisti moralisti che hanno aizzato in certe situazioni, contenta così la stampa che ha aizzato contro Ramsey, contenta così la società che ha messo Ramsey contro i tifosi, contenti i creators in generale, le communities che hanno aizzato pure loro, che ridacchiano contro Ramsey, contenti tutti. Io un po' meno, ma mi ritiro a vita privata su questo, cioè lascio stare, poi parleremo, poi parleremo di Ramsey, ci sarà modo, ci sarà tempo in futuro per parlare di Ramsey, intanto parlando di Artur e di Locatelli, io credo che per migliorare il centrocampo della Juventus, serva questo, Artur regista, Locatelli mezzala. Grazie per la vostra attenzione, buon dibattito nei commenti su Artur e Locatelli, e condividete questo video con qualcuno alla continassa che ci ascoltino, Locatelli è una mezzala, intanto mettete like e iscrivetevi al canale, attivando la campanella delle notifiche, per non perdere i prossimi video, e abbonatevi anche solo a 99 centesimi al mese, per avere anticipazioni sulla mia programmazione, e anche sui miei video, oltre che contenuti in anteprima nelle mie chat riservate sul server Discord, e tanti altri vantaggi. Ci vediamo molto presto, e sempre forza Juve!